. Il TV del ciclo Il Commissario Montalbano ha totalizzato 6.385 spettatori 27,11% di show. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello 15 Ettari ha avuto 3.479 spettatori, 20,95%. Il film Il Cavaliere Oscuro su Italia 1 ha avuto 1.024 spettatori 5,11%, il film Iron Man 3 su Rai 2.114 4,88% spettatori, mentre Report su Rai 3.777,17%, poi la rubrica prima dell'Alba 927 6,21%. Su Rete 4 il film 2 super piedi quasi piatti ha totalizzato 1.089 spettatori 4,79%, mentre sulla sette il film Fair Game ne ha avuti 434 1,80%. . 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 Spettatori 18,97%. Quella di striscia la notizia su canale 5 5.841 21,56%. Rai 3 la puntata dalla 500 alla 1 un posto al sole 1776 6,95%. Grazie a tutti.